Dare soddisfazione all'attività della questura e allo stesso tempo alla percezione di sicurezza dei cittadini. È il motivo per il quale il questore di Salerno Ficarra ha voluto tenere una conferenza a stampa questa mattina di bilancio sulle attività poste in essere durante il periodo di luci d'artista. Due mesi intensi nei quali la questura di Salerno ha effettuato 45 arresti, denunciato 74 persone e controllato più di 4.500 persone. Il questore di Salerno si è detto soddisfatto perché di fatti non c'è stata nessuna criticità, nonostante il mese di dicembre abbia visto le forze dell'ordine impegnate anche a garantire sicurezza durante eventi sportivi della salernitana ritenuti a rischio sicurezza. Il questore inoltre ha confermato l'arrivo di nuovo personale in forza alla polizia di Salerno e si è soffermato sull'ultima operazione effettuata dalla squadra mobile che ha portato all'arresto di una persona trovata in possesso di 9 kg di droga. 2018 dal nostro punto di vista è stato un anno in cui abbiamo registrato una diminuzione di fatti di reato e proporzionalmente invece un aumento delle attività di polizia. In questo momento la situazione ci fa essere moderatamente tranquilli, noi non abbiamo la sfera di cristallo per cui non possiamo sapere tra un giorno, una settimana o un mese cosa avverrà. Però l'incontro di oggi con voi è per testimoniare il nostro grande impegno intanto per la manifestazione che è appena terminata di lucida artista e anche quella di tutto il 2018 che ci ha visto impegnato con un impiego di uomini e di energie veramente al di sopra del normale. Intanto proprio oggi quest'ora è un'operazione che vi ha consentito di fermare una persona con 9 kg di droga, conferma anche del fatto che Salerno resta un crocevia importante da questo punto di vista? Beh sì, purtroppo questa è la materia del giorno, il traffico di stupefacenti è sempre presente, noi abbiamo un'enorme quantità di uomini che sono dedicati a questo tipo di attività e il sequestro di oggi conferma appunto il fatto che noi siamo veramente ancora sul pezzo. Per il 2019 noi siamo abbastanza fiduciosi perché il capo della polizia ci ha promesso dei rinforzi, noi riteniamo che fra quest'anno e l'anno prossimo avremo almeno 60 unità in più, come lo stesso capo ha detto ovviamente dobbiamo tenere conto dei pensionamenti e però questo ci consentirà di aumentare tutti i presidi sia quelli della provincia che quelli del capoluogo e quindi noi siamo abbastanza tranquilli che riusciremo a fare il massimo del nostro dovere.